Ha toccato anche le campagne a reti nel maxi sequestro schettato nelle ultime ore ed eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dello Scico di Roma con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Si tratta di beni che vengono confiscati a quello che gli inquirenti considerano il re delle scommesse, un imprenditore di 58 anni originario di Gioia Tauro con radicati interessi nel retino. La sua figura era già emersa nell'ambito dell'operazione Galassia che nel 2018 portò a 20 arresti sgominando un sofisticato ed altamente remunerativo sistema criminale finalizzato alla raccolta illecita di scommesse online. Da qui l'indagine di carattere economico patrimoniale finalizzata all'applicazione nei confronti dell'imprenditore di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Quindi la misura è stata disposta per un patrimonio dal valore complessivamente stimato in circa 700.000 euro. Si tratta dell'intero compendio aziendale di una ditta individuale e due società, tutte operanti nel settore della gestione e manutenzione degli apparecchi da gioco, nonché di 15 terreni che si trovano in provincia di Arezzo.